vediamo adesso come affrontare lo studio di un circuito che presenta delle impedenze in parallelo cioè delle impedenze che presentano ai loro capi la stessa tensione disegniamo un esempio di un circuito con tre impedenze in parallelo le individuiamo con i nomi z1 z2 e z3 sono in parallelo perché sono collegate fra gli stessi terminali quindi hanno la stessa tensione v in comune ognuna di queste impedenze sarà attraversata da una corrente i che sarà quindi identificata nel nostro circuito con la icon 1 lei con due e i con tre rispettivamente andiamo adesso a ricordare la definizione di ammettenza che ci aiuterà nell'analisi di questo semplice circuito quindi l'ammettenza per definizione è l'inverso dell'impedenza z quindi se scriviamo l'impedenza z come espressa parte reale parte immaginaria r più jx abbiamo che se sviluppiamo il nostro la nostra frazione abbiamo il moltiplicando per il complesso coniugato del denominatore abbiamo che possiamo riscriverla in questo modo otteniamo una parte reale r fratto r quadro più x quadro meno j x fratto ancora r quadro più x quadro che rappresentano la rispettivamente la conduttanza g è la suscettanza b quindi l'ammettenza espressa dal numero complesso g meno jb dove appunto come abbiamo detto g rappresenta la conduttanza quindi l'inverso della resistenza b rappresenta la suscettanza quindi l'inverso della reattanza e entrambe ovviamente hanno unità di misura simens essendo l'inverso di ohm vediamo ancora delle relazioni che legano l'ammettenza con la sua impedenza quindi possiamo riscrivere qua per comodità la nostra y come g meno jb dove g quindi dove il modulo dell'ammettenza sarà dato dalla radice quadrata di g quadro più b quadro e il suo angolo caratteristico dall'arco tangente della parte immaginaria meno b diviso la parte reale g adesso cerchiamo i legami con l'impedenza z quindi se indichiamo con y il modulo della parte dell'ammettenza il modulo dell'ammettenza è con psi l'angolo caratteristico dell'ammettenza andiamo a vedere che relazione c'è fra l'angolo caratteristico dell'ammettenza con l'angolo caratteristico della rispettiva impedenza quindi analizziamo il meno b fratto g che è l'argomento dell'arco tangente che ci consente di ricavare la psi sostituiamo adesso rispettivamente a b e g le rispettive espressioni che abbiamo visto sopra quindi abbiamo che b è x fratto r quadro più x quadro e g al denominatore è r fratto ancora r quadro più x quadro ovviamente abbiamo ancora il segno meno davanti alla frazione quindi se riscriviamo la nostra frazione portando la frazione al denominatore e al numeratore ribaltandola otteniamo meno x fratto r quadro più x quadro che moltiplica r quadro più x quadro fratto r quindi abbiamo che il numeratore e il denominatore delle due frazioni si semplificano essendo uguali e quindi rimane meno x fratto r dove meno x fratto r non è altro che l'argomento cambiato di segno che rappresenta l'angolo caratteristico dell'impedenza quindi il legame che esiste fra l'angolo caratteristico dell'ammettenza e l'angolo caratteristico della corrispondente impedenza è che sono uno uguale all'altro però cambiato di segno quindi abbiamo che l'angolo caratteristico dell'impedenza fi sarà uguale a meno l'angolo caratteristico dell'ammettenza psi e viceversa adesso quello che interessa noi è trovare l'impedenza equivalente del parallelo delle tre impedenze nel nostro esempio quindi quell'impedenza che è sostituita le tre precedenti non modifica il valore della tensione V se è il valore della corrente I totale che è quella che è la somma delle tre correnti dei tre rami in parallelo questo ovviamente ce lo dice la legge di Kirchhoff al nodo dove abbiamo che la corrente entrante I è data dalla somma vettoriale delle tre correnti uscenti dal nodo stesso I con 1 più I con 2 più I con 3 quindi questa rappresenta l'equazione di Kirchhoff al nodo del nostro ramo in parallelo andiamo adesso quindi a vedere che valore ha la zp noi sappiamo che il parallelo di più impedenze è equivalente a un'impedenza che è data dall'inverso della somma degli inversi delle impedenze in parallelo quindi 1 fratto 1 su z1 più 1 su z2 più 1 su z3 a denominatori abbiamo gli inversi delle impedenze ognuno dei quali rappresenta l'ammettenza del corrispondente ramo quindi avremo 1 diviso y1 più y2 più y3 ovviamente l'impedenza zp avrà a sua volta un'ammettenza yp che sarà ovviamente l'inverso di zp quindi yp che è 1 su zp dalla precedente risulta essere data dalla somma delle singole ammettenze quindi il risultato interessante è che in un parallelo di impedenze l'ammettenza equivalente del parallelo è data dalla somma delle ammettenze quindi un'operazione più semplice, un calcolo più semplice da fare con i numeri complessi e questo giustifica il passaggio alle ammettenze quindi riscriviamo la yp come somma delle singole ammettenze quindi se riscrivo ogni ammettenza come data dalla sua conduttanza meno j la sua suscettanza scrivo l'espressione, questa espressione complessiva raccolgo i termini reali quindi la somma delle singole conduttanze g1 più g2 più g3 e poi raccolgo le parti immaginarie tutte con un meno j davanti quindi la somma delle suscettanze b1, b2, b3 quindi in definitiva avremo che la conduttanza del parallelo avrà una parte reale quindi una conduttanza che chiamiamo gp e una parte immaginaria negativa che chiamiamo bp che sarà la suscettanza equivalente dell'ammettenza del parallelo quindi torniamo alla nostra zp che ovviamente sarà l'inverso dell'ammettenza yp quindi 1 fratto yp andiamo a scrivere quindi avremo 1 fratto gp meno j bp facciamo l'inverso il prodotto per il reciproco del denominatore per separare parte reale e parte immaginaria quindi avremo gp più j bp fratto gp quadro più bp al quadrato separiamo la parte reale gp fratto gp quadro più bp quadro dalla parte immaginaria che è j bp fratto gp quadro ancora più bp quadro quindi abbiamo messo abbiamo evidenziato una componente reale che sarà la componente resistiva dell'impedenza del parallelo una componente immaginaria che sarà la reattanza equivalente del parallelo continuiamo la nostra analisi e andiamo a calcolare le correnti nei singoli rami quindi abbiamo che la corrente I1 sarà data dalla tensione V uguale per tutti i rami diviso l'impedenza Z1 per la legge di Ohm generalizzata quindi la possiamo anche riscrivere come V che moltiplica l'ammettenza Y1 e quindi sarà se esprimiamo la tensione come modulo e fase V, FI, V e l'ammettenza come modulo Y1 e angolo caratteristico PSI1 abbiamo che la corrente I1 avrà modulo quindi valore efficace dato dal prodotto dei moduli V per Y1 è fase data dalla somma delle fasi delle due componenti quindi la fase della tensione più l'angolo caratteristico dell'ammettenza PSI1 possiamo scrivere quindi per la I2 la stessa espressione andiamo direttamente a scrivere il risultato finale che quindi sarà VY2 come modulo e FIV più PSI2 come fase della corrente I2 e ancora per la corrente I3 avremo ovviamente VY3 con fase FIV più PSI3 qua possiamo ancora riscrivere per la corrente I1 quindi la sua fase ricordandoci la relazione fra l'angolo caratteristico dell'ammettenza e con quello dell'impedenza avremo che la fase della corrente I1 sarà data da FIV la fase della tensione meno l'angolo caratteristico dell'impedenza Z1 Z1 e così per I2 avremo la fase data da FIV meno l'angolo caratteristico dell'impedenza Z2 e così per la I3 se andiamo a rappresentare sul piano di Gauss i vettori disegniamo il piano di Gauss quindi gli assi reale e immaginario disegniamo un segmento che rappresenta dove la direzione su cui giace la tensione V e questo quindi sarà l'angolo di fase FIV della tensione e adesso andiamo a rappresentare su questo diagramma le tre correnti I1 I2 e I3 quindi disegniamo la I1 che sarà sfasata dalla tensione V per l'angolo FI1 in ritardo nel senso se pensiamo a FI1 positivo abbiamo meno FI1 come sfasamento fra la tensione e la corrente quindi nel verso orario i vettori se invece ad esempio per la I3 immaginiamo che la FI3 sia negativa avremo che si troverà in anticipo sempre dell'angolo FI3 della sua impedenza caratteristica quindi questi i vettori delle correnti rispetto alla direzione della tensione quindi al vettore della tensione per abbiamo detto l'equazione di Kirchhoff al nodo abbiamo che la somma vettoriale delle correnti nei tre rami deve essere uguale alla corrente totale entrante nel parallelo quindi riscriviamo qua l'equazione di Kirchhoff al nodo quindi la corrente entrante nel nodo I è data dalla somma delle tre correnti uscenti che vanno nelle tre impedenze disegniamo quindi la somma vettoriale di I1 I2 e I3 quindi disegniamo in sequenza i tre vettori dove termina uno riparte l'altro col suo angolo la corrente I sarà data dalla somma vettoriale quindi è la risultante dei tre vettori rappresentati nel diagramma di Gauss disegniamo riportiamo ancora la direzione della tensione e l'angolo di fase della tensione Φ avremo che la corrente I sarà sfasata rispetto alla tensione V ai capi del parallelo di un certo angolo Φ quale sarà quest'angolo Φ sarà ovviamente uguale all'angolo caratteristico dell'impedenza equivalente del parallelo quindi alla Zp quindi Zp rappresentata come modulo fase e fase angolo caratteristico Φ dell'impedenza equivalente del parallelo sarà proprio uguale all'angolo di sfasamento fra la tensione e la corrente totale nel parallelo ricordandoci poi che l'angolo caratteristico dell'impedenza è uguale all'angolo caratteristico dell'ammettenza cambiato di segno avremo che conoscendo Φ possiamo determinare allo stesso modo l'angolo di sfasamento tra corrente e tensione di sfasamento di sfasamento di sfasamento di sfasamento Grazie a tutti.